Grazie per essersi iscritto alla nostra rivista Caccia e Relax. A partire da oggi riceverà una chiamata giornaliera sull'appassionante mondo degli animali selvatici per soli 20 euro al mese, IVA inclusa. Per cancellare l'iscrizione, dica cancellare. Cancellare! Tra tutti gli animali dei quali parleremo abbiamo il cinghiale, il capriolo, il cervo, il dino, il muclone, lo stambecco. Cancellare! Grazie per usare Caccia e Relax. Mi scusi non l'ho capita. Per cancellare la sua iscrizione a Caccia e Relax dica cancellare. Cancellare! Vuole cancellare la sua iscrizione? Sì! Risponda alla domanda di sicurezza. Qual è il suo animale preferito? Che cam... cancellare! Cancellare! Mi scusi non l'ho capita. Riprovi un'altra volta. Cancellare! Qual è il suo animale preferito? Cancellare! Cancellare! Sbagliato! Il suo animale preferito è il muclone. Lei continuerà ad essere iscritto alla nostra rivista Caccia.